amici di the one channel quest'anno sarà un natale un po diverso dal solito però questo non ci può impedire di farci comunque gli auguri di passare questa festività nel miglior modo possibile condividendolo con i nostri affetti vicini e lontani ma soprattutto gustando una buona bottiglia di vino che è sicuramente una ottima compagna sempre con moderazione all'interno delle feste vi ringrazio con questo video anche per tutte le iscrizioni tutti i commenti ai miei video vi ringrazio ulteriormente come ho già fatto nel video precedente per aver raggiunto la soglia dei 1000 iscritti adesso l'abbiamo anche superata quindi sono contento che sempre più questo canale stia crescendo e mi anche permetto sfrutto questa occasione per ringraziare anche qui vedete questo bellissimo decoro natalizio fatto con i tappi delle bottiglie e che ho ricevuto come omaggio da una fan ecco anche questo uso appunto questo video per ringraziarla di questo bellissimo bellissimo maggio che come vedete fa bella vista di sé nella stanza qui dove normalmente registro i video quindi dopo aver fatto anche questo ringraziamento speciale ringrazio ancora tutti voi vi chiedo chiaramente di continuare a seguirmi di continuare a scrivere le vostre domande a condividere il canale con tutti coloro che possono essere interessati a conoscere qualcosa di più del mondo del vino vi auguro di passare un sereno natale un pensiero anche a chi questo natale chiaramente non lo potrà passare con con i propri chiari con i propri cari anche va lui ancora di più forte la mia vicinanza ma soprattutto vi auguro di poter come detto prima degustare un ottimo vino magari anche con i miei consigli che avete tratto da questo canale buon natale a tutti un ciao da francesco e alla prossima occasione qui su the wine channel e grazie a tutti Grazie.